Dopo l'offerta d'acquisto portata avanti dall'azienda Pratese Bellandi, la questione della manifattura del casentino è ormai arrivata ad una svolta importante. Grazie all'impegno di tutti è stata così salvata un'eccellenza del Made in Italy e tutto il suo indotto occupazionale, come spiega il sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini, che ha seguito da vicino tutta la vicenda. Siamo soddisfatti ma soprattutto siamo felici perché è arrivata la conferma del nuovo acquirente che mette fine alle incertezze, ridisegna un futuro per un'eccellenza del nostro territorio, il panno del casentino, un'eccellenza del Made in Italy. Ho seguito personalmente la questione al Mise e non posso che ringraziare il Ministro Giorgetti proprio per la sua attenzione sulla situazione. È stata così salvata un'azienda ma si è salvato un intero indotto occupazionale. Il panno del casentino va accompagnato in un percorso virtuoso perché oggi non è l'arrivo ma è la partenza e io sarò al loro fianco, al fianco dell'azienda e al fianco dei lavoratori.